Scarafaggi, tarli, pulci sono solo alcune delle specie di insetti che si possono trovare comunemente all'interno delle abitazioni umane. Alcune di queste sono dannose o possono portare malattie, mentre altre sono del tutto innocue e altre ancora possono essere utili per tenere a bada quelle dannose. È di questi insetti, e non solo, che parlerà questa rubrica, che ho deciso di aprire con quei simpatici procuratori di infarti che sono i pesciolini d'argento. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Niccolò e quest'oggi vi voglio parlare di alcuni degli insetti che si trovano più frequentemente nelle nostre case, i pesciolini d'argento. Come scoprirete, non ce n'è soltanto di un tipo, ma sono almeno due le specie che si trovano frequentemente nelle abitazioni, senza contare quelle più sporadiche. Perciò ritengo che sia opportuno fare innanzitutto una breve introduzione su cosa siano questi insetti, per semplificare poi il resto del video in cui vado a parlare nel dettaglio delle specie casalinghe. Però, se ne sapete già e volete saltare questa parte, potete andare a questo minuto, ma sappiate che siete dalle brutte persone. I pesciolini d'argento appartengono all'ordine degli zigentomi, che assieme ai loro parenti più prossimi, gli archeognati, sono gli insetti più arcaici tutt'oggi esistenti. Nonostante esistano poche testimonianze fossili di zigentomi, è stato possibile datare, più o meno, il periodo in cui devono essere comparsi sulla terra, ed è saltato fuori che questi insetti sono in giro dall'inizio del periodo carbonifero. Stiamo parlando di oltre 300 milioni di anni fa. Gli zigentomi sono talmente arcaici che non soltanto non hanno le ali, ma non le hanno nemmeno mai avute. Infatti, al giorno d'oggi, sono molti gli insetti che non possiedono le ali, ma che però discendono da antenati alati e hanno poi perso le ali successivamente nel corso dell'evoluzione. Un tipico esempio sono le pulci. Gli zigentomi, invece, le ali, che poi sono uno dei motivi dell'incredibile successo degli insetti, non le hanno mai avute. Un'altra caratteristica molto arcaica di questi insetti è il loro ciclo vitale. Infatti, per moltissimi insetti al giorno d'oggi, come farfalle, api e scarabei, dall'uovo nasce una larva che è molto diversa dall'adulto. Basti pensare a com'è diverso un bruco da una farfalla. Questa larva, a un certo punto, farà la metamorfosi, attraversando uno stadio di pupa o crisalide, dal quale poi emergerà l'insetto adulto. Questi insetti si chiamano olometaboli. Ci sono poi molti altri insetti, come cimici, scarafaggi e libellule, che sono un po' più arcaici sotto questo punto di vista, e in cui lo stadio giovanile è abbastanza simile all'adulto, tranne che per alcune differenze, come le dimensioni più ridotte o l'assenza di ali e di organi riproduttivi. Il passaggio dallo stadio giovanile a quello adulto è scandito semplicemente da una muta, in cui l'insetto si libera dell'esoscheletro vecchio, che è troppo piccolo, per poter crescere e diventare adulto. Una volta adulto, poi, non farà più altre mute. Questi insetti si chiamano enimetaboli. Gli zigentomi non sono nessuna di queste due cose. Infatti, non soltanto non fanno la metamorfosi e le larve sono praticamente dalle copie in miniatura degli adulti. Ma lo sviluppo è scandito semplicemente da una serie di mute, in cui l'insetto diventa di dimensioni man mano maggiori, e queste mute continuano anche una volta che l'insetto è diventato adulto. Questo tipo di sviluppo è detto ametabolia, e gli unici insetti sopravvissuti fino ad oggi con questa caratteristica sono soltanto gli zigentomi e gli archeognati. Gli zigentomi hanno un corpo slanciato e appiattito, di un colore che va dal bianco al marroncino, ma in alcune specie il corpo è ricoperto da scaglie o da peluria che gli conferiscono un colore argenteo o dorato. Le antenne sono in genere lunghe e sottili, e gli occhi sono molto ridotti, o addirittura assenti in alcune specie. Un'altra caratteristica particolare di questi insetti è la presenza, al termine dell'addome, di tre appendici, quelle laterali si chiamano cerci, mentre quelle interne invece è un'espansione dell'ultimo segmento addominale. Inoltre, ai lati dell'addome sono presenti anche altre appendici, molto ridotte, chiamate stili. Queste non sono presenti negli insetti più moderni, e potrebbero essere ciò che rimane di appendici presenti sull'addome degli antenati degli insetti. Il fatto che siano animali così antichi però non vi deve far pensare che gli zigentomi non siano di successo. C'è un motivo per cui sono in giro da 300 milioni di anni, ed è la loro adattabilità. Infatti, fra le 550 specie circa di zigentomi note ad oggi, passiamo da specie di ambienti boschivi, come Tricolepidion, ad altre che vivono nelle caverne, come Texorediella. Passiamo dai formicai, dove vivono le Atelura, fino ad alcuni dei deserti più aridi della terra, dove specie come le Maindronia sono letteralmente gli unici animali in grado di sopravvivere. E poi ci sono quelle specie che, con l'arrivo dell'uomo sulla scena, hanno saputo trarne un vantaggio e si sono insediate con successo nelle nostre abitazioni. E adesso vediamo che cosa ci combinano. Partiamo con la specie in assoluto più diffusa nelle case di tutto il mondo, e che sono sicuro che tutti voi avete visto almeno una volta nella vita. La Lepisma saccarina, ovvero sia il pesciolino d'argento vero e proprio. Questa specie è probabilmente originaria dalle zone dell'Europa meridionale e di parte dell'Asia, dove effettivamente si può trovare in natura, fra le rocce o sotto le pietre. Tuttavia, con l'arrivo dell'uomo, ha saputo sfruttare efficacemente il nuovo ambiente che si è creato, cioè l'ambiente domestico, e ad oggi, grazie alle attività umane, è diffusa praticamente ovunque. In fondo, questo ambiente è ideale per la Lepisma, che si nasconde nelle fessure o nelle crepe dei muri, ma anche nelle soffitte o nelle cantine, in generale in luoghi bui e umidi. È una specie notturna, che di giorno resta nascosta in fessure o crepe. Il suo corpo molto appiattito le permette di infilarsi anche in fessure molto strette, come ad esempio nei battiscopa. Durante la notte, invece, esce allo scoperto alla ricerca di cibo, ed è in questo momento che è più facile incontrarla in giro nelle case, sul pavimento o sui muri. Se disturbata, la Lepisma saccarina è in grado di correre molto velocemente ai ripari. È questa corsa oscillante, unita alla forma slanciata del corpo e alle scaglie argente che lo ricoprono, ad aver valso a questa specie il nome comune di pesciolino d'argento. Un altro motivo per cui questa specie è stata in grado di conquistare praticamente tutto il globo è che è onnivora. Si nutre praticamente di tutto, anche se ha una predilezione per il materiale vegetale. Si ciba di cereali, resti di altri insetti, e così via. Nelle condizioni giuste, alla giusta umidità e a temperature che vanno dai 22 ai 27 gradi, temperature casalinghe quindi, si possono formare molto velocemente colonie molto numerose. L'accoppiamento avviene qualche giorno dopo ogni muta. All'inizio il maschio e la femmina si toccano ripetutamente le antenne. Dopodiché il maschio depone sul terreno una spermateca, cioè una struttura che contiene lo sperma, che verrà poi raccolta dalla femmina nel suo ovopositore. Da ogni accoppiamento la femmina depone al massimo una trentina di uova, ma lo può fare più volte nel corso della sua vita. Dall'uovo nascerà una larva che è praticamente un adulto in miniatura e che si accrescerà poi facendo varie mute nel corso della sua vita, fino ad arrivare a un centimetro circa di lunghezza. Tuttavia la maturità sessuale viene raggiunta prima di arrivare alla dimensione massima. In totale un individuo può vivere per circa un anno. E ora la domanda fatidica. Il pesciolino d'argento è pericoloso? Beh, se si tratta di pochi esemplari isolati di sicuro no, però quando si ha a che fare con infestazioni importanti, lì sì che possono fare danni. Infatti uno dei cibi preferiti di questi insetti e che negli edifici è spesso fornito loro inconsapevolmente in quantità è la carta. I pesciolini d'argento sono noti per nutrirsi dalla carta dei libri. La loro forma appiattita permette loro di infilarsi in mezzo alle pagine per rosicchiarle e inoltre sembrano gradire particolarmente anche la colla usata per le rilegature. Perciò infestazioni molto numerose di pesciolini d'argento in biblioteche o archivi possono fare danni veramente molto gravi. Questi ambienti infatti sono in genere tranquilli durante le ore notturne e non sono visitati da molte persone, tranne forse studenti universitari nel panico. E inoltre i libri spesso non vengono aperti per moltissimo tempo, perciò sono praticamente perfetti per la lepisma saccarina. Questo insetto però può causare anche un altro problema. Grandi infestazioni di lepisma nelle case possono causare, in persone che già soffrono di problemi respiratori, come rinite o asma, anche una reazione allergica, soprattutto se queste persone restano in contatto con questi insetti per molto tempo e se si tratta di giovani o bambini. Per prevenire infestazioni bisogna innanzitutto tenere l'umidità bassa. Questo vale sia per le case che per altri edifici. Infatti la lepisma saccarina prospera soltanto in ambienti in cui l'umidità è superiore al 75%. Poi ovviamente bisogna tenere pulito ed evitare di lasciare in giro eventuali fonti di cibo. Per quanto riguarda le biblioteche occorrerebbe far arriaggiare e controllare periodicamente i libri. Questo dovrebbe bastare per prevenire infestazioni. Ma nel caso in cui l'infestazione fosse già presente, si è visto che l'olio essenziale del cedro giapponese, criptomeria japonica, pare avere un'importante azione repellente nei confronti di questi insetti e potrebbe essere un'ottima alternativa ai pesticidi. E per finire, un paio di curiosità su questa specie. Ad esempio, sapevate che in natura la lepisma saccarina è stata trovata anche nei nidi di altri animali? Noi esseri umani non siamo gli unici a subire i danni dell'elepisma. Infatti è stata trovata anche nei formicai e addirittura nei nidi delle vespe del genere dolicovespula, dove pare che si nutra del materiale di cui è fatto il nido, che è una specie di carta. Inoltre, sapevate che si è scoperto che la lepisma saccarina è in grado di risolvere labirinti anche piuttosto complessi nel giro di pochi giorni? Non male per un insetto che è fra i più antichi ancora oggi esistenti. E ancora, non so se sapevate già questa cosa, ma la carta, e più in generale la cellulosa, sono fra i materiali più difficili da digerire in assoluto. Sono pochi gli animali in grado di farlo, e molti di questi ci riescono soltanto perché hanno nel loro apparato digerente dei microorganismi che la digeriscono al posto loro. Un esempio di animali che adottano questa strategia sono i mammiferi ruminanti, come i cervi, oppure, restando fra gli insetti, le termiti. Ecco, il pesciolino d'argento non fa così. È in grado di digerire la cellulosa per conto suo, senza bisogno di aiuti. Nel suo apparato digerente può produrre un enzima che riesce a separare le molecole di cellulosa rompendo i legami che le tengono assieme. Questo funziona addirittura anche con la lignina. Credetemi, tutto ciò è veramente incredibile. Tuttavia, l'alepisma saccarina non è l'unica specie in grado di farlo, e non è nemmeno l'unica ad essere diventata casalinga. Perciò direi che è arrivato finalmente il momento di salutarla e di passare ad una sua parente più... calorosa, la termobia. Un'altra specie che si trova comunemente nelle abitazioni, anche se è un po' meno di frequente rispetto all'alepisma saccarina, è la termobia domestica, che non ha esattamente un nome comune in italiano che io sappia. In inglese la chiamano firebrat, ovvero qualcosa come marmocchio di fuoco. Non saprei dirvi il perché. Probabilmente è perché vive, come vedremo, in ambienti molto caldi. L'aspetto è molto simile a quello della l'alepisma saccarina, ma è di dimensioni nettamente maggiori. La termobia domestica adulta può arrivare anche a un centimetro e mezzo di lunghezza, ma se contiamo anche le lunghissime antenne e i cerci alla fine dell'addome, allora la lunghezza arriva anche a 4 centimetri. La differenza principale con la specie precedente sta piuttosto nello stile di vita. Come suggerisce il nome, la termobia è una specie termofila, cioè che vive soltanto in ambienti molto caldi. La temperatura ideale a cui si sviluppa è di 37 gradi e se scende sotto ai 32 gradi lo sviluppo si ferma. Per questo motivo la termobia domestica vive soltanto in ambienti bui, umidi e con costanti fonti di calore, come ad esempio forni, impianti di riscaldamento, ma anche le intercapedini dei muri dove si trovano le tubature dell'acqua calda. Lo sviluppo da uovo alla maturità sessuale dura circa 11 settimane e in totale un individuo può vivere per un anno e mezzo. La termobia appena nata dall'uovo è lunga circa 2 mm, è bianca e con appendici molto corte. Con il passare del tempo e delle mute man mano le antenne e i cerci si allungano e il corpo si ricopre di scaglie. Un'altra differenza con la lepisma saccarina è la velocità nei movimenti, la termobia è decisamente più lenta. Come la lepisma anche la termobia si nutre praticamente di tutto, da scarti di cibo a carta e anche a tessuti di lana o seta e può resistere per lunghi periodi senza mangiare. Anche nella termobia l'accoppiamento avviene senza un contatto diretto tra maschio e femmina. Il maschio depone la spermateca sul terreno che viene poi accolta dalla femmina nel suo ovopositore. Dopodiché la femmina deporrà circa una ventina di uova. Un'altra cosa carina di questi animali è che possono rigenerare le appendici perse con le mute successive. Anzi, le mute possono essere anche anticipate proprio per rigenerare le appendici. I danni causati dalle infestazioni di termobia sono praticamente gli stessi che vi ho già descritto per la lepisma. Sono più rari però, proprio per via del fatto che questa specie necessita di condizioni molto più particolari per prosperare. La termobia si è rivelata utile però in un altro campo. Infatti, grazie alla facilità con cui si può trovare e allevare, grazie anche al fatto che non riesce a scalare pareti lisce in vetro o in metallo, è fra gli organismi modello utilizzati per studiare l'evoluzione degli insetti, dato che si tratta di bestiole così antiche. Le pisma saccarina e termobia domestica sono in assoluto le due specie di zigentomi più diffuse nelle case di tutto il mondo, però non sono le uniche che si possono trovare all'interno delle abitazioni. Infatti ce ne sono altre che più raramente hanno fatto dalle nostre case anche le loro case. Ad esempio abbiamo specie del genere Ctenolepisma, come la Ctenolepisma targioni, la lineata e soprattutto la Ctenolepisma longicaudata, che grazie all'uomo è diventata cosmopolita. Anche per questa specie, che ha avuto un discreto successo, anche se non così grande come quello delle precedenti due, valgono praticamente le stesse cose dette per la Lepisma. Anche l'aspetto è molto simile a quello di Lepisma saccarina. Le due specie si possono distinguere soltanto per alcune sottili differenze nella disposizione della peluria e nella forma dell'ultimo segmento addominale. Inoltre le dimensioni sono leggermente maggiori nell'actenolepisma e il ciclo vitale è molto più lento. Infatti l'actenolepisma longicaudata raggiunge la maturità sessuale soltanto dopo due o tre anni di vita. Un'altra cosetta interessante dell'actenolepisma sono i loro parassiti. Infatti alcune specie come Actenolepisma ciliatum e michelseni è stato visto che sono attaccate da altri insetti parassiti, gli strepsitteri del genere Mengenilla. Gli strepsitteri sono insetti veramente strani, su cui si potrebbe fare un altro video di mezz'ora. Per farla in breve, i maschi di strepsitteri sono piccoli e alati, somigliano un po' a dei moscerini, mentre invece le femmine vivono all'interno dell'addome di altri insetti, come parassiti, lasciando sporgere all'esterno soltanto la punta del loro addome per accoppiarsi. Ma su questo non voglio scendere troppo nei dettagli, vorrei tenermene qualcuno sugli strepsitteri come la loro inseminazione traumatica per un video dedicato. Per quanto riguarda i pesciolini d'argento invece direi che ho detto praticamente tutto e questo video si può anche concludere qui. Io spero vivamente che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto conoscere meglio questi simpatici animaletti che spesso condividono l'abitazione con noi. Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace, di commentare e se non volete perdere i prossimi video iscrivetevi e attivate la campanella degli avvisi, insomma le solite robe. Inoltre vi informo anche che se volete saperne qualcosa di più sui parenti selvatici dei pesciolini d'argento ho già fatto ben due video a riguardo, li trovate in descrizione oppure nella schermata finale di questo video. Detto ciò vi do appuntamento alla prossima con un simpatico video sugli zombie. Ciao!